Stanno in prima divisione? Aspetta, Mauro, Matarucco stanno, gioca o no? Perché? Vai in pagina? Non lo so, chiedi a te. Cosa ne pensi di Matarucco in prima divisione? Matarucco in quella squadra non giocherà mai. Se viene da me lo farò giocare due partite. Come due partite? Basta? Perché? In tutte e due. Prende Meleto e quell'altro. Quindi devi smettere di giocare in poche parole? Eh? No, è un bravo ragazzo. Purtroppo è lì.